Un burattino contro il bullismo. È Pinocchio che diventa social per coinvolgere i ragazzi ed educarli. Sabato 8 dicembre arriva al Cineteatro Nuovo di Varese, il Teatro Umbro dei Burattini, con lo spettacolo Pinocchio, le avventure di un sognatore. Un grande classico rivisitato, il celebre personaggio di Collodi, viene proposto con i moderni videogames in mano, pronto a passare da un social network all'altro. Uno spettacolo di 75 minuti già in tournée in tutta Italia e che desidera veicolare un messaggio importante contro il bullismo. Un tema sempre attuale di primaria importanza tra le fasce più giovani e indifese, esposte a pericoli sia sul web, il cosiddetto cyberbullismo, che negli ambienti di socializzazione. Dunque, uno spettacolo capace di fondere l'antica arte dei burattini con il linguaggio più moderno e tecnologico dei social network. I burattini utilizzati dalla compagnia Umbra sono in legno e tutti dipinti a mano, delle vere e proprie opere d'arte realizzate da un anziano artigiano torinese. Le musiche dello spettacolo, tutte originali, sono composte da Giuliano Ciabatta, in arte Paco, musicista e compositore con al suo attivo prestigiose collaborazioni con artisti di livello nazionale, una fra tutte quella con Lucio Dalla. Un spettacolo che prende di riferimento sicuramente la favola tradizionale collodiana, ormai famosa in tutto il mondo, ma nel nostro copione abbiamo anche dato degli spunti all'attualità e anche a delle problematiche come il bullismo, il cyberbullismo, e quindi Pinocchio serve anche per veicolare verso il pubblico, verso i più piccoli e le loro famiglie, anche dei messaggi importanti come la solidarietà e l'integrazione. Abbiamo visto con piacere in tutta Italia che le famiglie ritornano volentieri e si rituffano, con la scusa di portare i bambini al teatro dei Burattini, si rituffano nelle antiche, poetiche, delicate atmosfere che proprio offre ancora negli anni del digitale, del tridimensionale, di internet, riesce ancora ad offrire per fortuna lo spettacolo del teatro dei Burattini. Per i più curiosi è disponibile il sito internet www.teatrodeiburattini.it Grazie.